Come ogni anno, pienone di gente davanti alla loggia del municipio di Pordenone e in un lungo tratto di corso Vittorio Emanuele. 4578 le cartelle vendute per la tradizionale tombola dell'8 settembre, l'appuntamento popolare più sentito in città che si svolge nel giorno della festa della Madonna delle Grazie, copatrona della città. La festa è cominciata alle 17.30 con la filarmonica Città di Pordenone, diretta dal maestro Didier Ortolan, con la musica intervallata dagli sketch del duo comico dei Papu, che hanno condotto e animato il pomeriggio fino al momento dell'estrazione dei numeri della tanto attesa tombola. Alla presenza della Polizia Municipale, che ha come di consueto controllato la regolarità dell'estrazione, sono stati assegnati i premi messi in paglio dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Il forte e unato vincitore è stato Adriano Campagna, pordenonese doc, che ha incassato l'assegno di 1200 euro. Nelle parole del sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, il successo che anche quest'anno la manifestazione ha avuto. Parlavo con il Presidente per capire da quanti anni questa tradizione si svolge a Pordenone, ma pare che abbiano perso il conto. È un piacere essere qui, è un piacere stare insieme, è un piacere sentire come le tradizioni, se usate bene, fanno stare bene insieme alla gente. Abbiamo inaugurato oggi un sacco di cose, compresa la Fiera Campionaria, un altro simbolo della città. Ecco, secondo me l'8 settembre per la città di Pordenone vuol dire tutte queste cose insieme, ma alla fine per sentirsi cittadini, per sentirsi parte di una comunità. Ulteriore applauso va fatto al personale operaio del magazzino comunale di Pordenone, che dopo aver montato il palco e posato circa 850 sedie, al termine della manifestazione ha provveduto immediatamente allo sgombero della strada, evitando così di disturbare i residenti nelle ore serali.